Ciao ragazzi, questa che state per vedere è una cattura fatta con i membri della crew questa cattura è stata creata da un membro della crew, a me è piaciuta veramente tantissimo se fosse così anche per voi lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale adesso sul mio canale voglio creare una nuova sezione con tutte le vostre creazioni tutte le creazioni che più mi appassionano e che appassionano anche tutti i membri della crew che sono in quel momento con me, in quella sessione a provare quella creazione ve le porterò qua sul mio canale, così tutti assieme potremo votarle potremo decidere se questa cattura, se quel deathmatch, se quella gara merita di essere votata merita di essere giocata, così facendo ragazzi ne sceglieremo una o un paio diciamo e cercheremo di votarle il più possibile così da cercare di farle votare dalla Rockstar e farle approvare quindi ragazzi spero che questa mia idea vi piaccia e adesso vi lascio al gameplay allora uno va sull'altra riva vai vai come prima, due sulla riva vedete che prendo il giubbo vai 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 allora due sulla riva, dov'è che avevi trovato la barca? intanto fammi prendere la moto via con la moto, perfetto allora io vado dalla parte destra per poi andare a sinistra con la valigetta vai para, vuoi un passaggio? dai dai che sono tutti in mezzo, che li freghiamo sulla destra nooo è quello da dove è spuntato dai dai vai vai, allora uno sulla destra occhio allora lo aspetto qua io vai vai, allora io vado in mezzo così li distrago e così vediamo anche dove sono ce n'è uno dietro in mezzo e vai sono in mezzo come il muschio sono attaccati agli alberi come il muschio buono nooo ce n'è ancora uno in mezzo e vai io sto facendo il fagiano oh scusa oh e quello cos'è stato? mi ha lanciato un lanciagranate ha cross the map con un lanciagranate oh chiamo l'ester ragazzi eh infatti non si vede nulla vabbè aspettate lì quanto la nebbia non dovrebbe allora intanto oh oh tutti in mezzo sono non si vede assolutamente nulla oh oh tutti in difesa tutti in mezzo vabbè se no aggirateli e prendete una valigetta oh aspettatemi un attimo non c'è vai dai scendi da sta moto allora lì preso poi ce n'è un altro qua ci vuole il visore termico qua vieni a prendere vieni a prendere in base io sono già lì perché io sono qua nella loro base però se prendo la cosa anche io sono nella loro base ma lì c'è qualcuno oh l'ha preso ma dai spara quanto tempo ci vuole a caricare un calibro 50 un barrett dovrebbe essere semi automatico dai togli da staccavolo di moto preso vai ce n'è pochi nella nostra base ancora prova prova ma come no preso preso oh la dai ce n'è ancora uno che ci punta vai lo chiamo anch'io l'elicottero merriweather vai vai ariamoli 5.000 si dai che me frega 3 milioni via 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 oh eccoli il mio buzzard ma dov'è chi è ma cos'è successo dai che gioco allora sono tutti in mezzo dalla parte sinistra tutti in mezzo dalla parte sinistra sono e due sulla parte destra vai 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 cazzo quanti ne arrivano ne arrivano tantissimi ce n'è uno che è andato in acqua e intanto ho ucciso quello sott'acqua con l'rpg no quello è morto via dimmi scusa vai io vado di nuovo in mezzo ad attirarli non ho visto nessuno c'era il fumo ma non ho visto niente sto facendo un po' troppo il fagiano qui in mezzo sto morendo 800 volte eh io sono qua in mezzo d'altronde ognuno ha i suoi compiti oh ragazzi io vado avanti e chiamo l'elicottero anch'io eh però è un po' inutile Biscard fa cagare oh lancio un raggio un raggio lunare chiamiamole sailor moon sarebbe meglio il bombardamento Biscard sarebbe più utile vai dietro al pino qua dietro c'è qualcuno io ti ho preso con il pompa vai giudy che ce la facciamo eh c'ho il viaggio vai 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 no c'è qualcuno dietro qua vai 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 cazzo prendoli cioè avevo la valigetta avevo la valigetta e volevo uccidere troppe persone e ho fatto una cagata vai che li vado addosso dai che l'ho tirato sotto con la moto pioggia di granate occhio vai vai tranquilli che li sto bombardando con le granate ma come dov'è dov'è eccolo là quello è dietro la macchina sta facendo il giro quello aspetta che li tiro una granatina al gusto di limone via via no mi hanno ammazzato in 800 vabbè nessuno ha preso niente peccato casina è stato sì magari è da migliorare qualcosa ancora Ciao a tutti